Nuovo aggiornamento, nuova arma, esplosivi telecomandati Io penso che da lì in poi su Fortnite sarà una tortura Perché dovremo controllare ogni angolino per vedere se c'è una cavolo di C4 pronta ad esplodere Io sono felice, Steph Perché Ferre... Mi piacciono gli esplosivi Sì, ok, però Sarà divertente Non sei preoccupata di esplodere tu stessa? Nah, te ne accorgi, probabilmente fa il bip Scusa, farà titti e tu come l'ho sentita ne vai Io lo spero Io lo spero Vedremo, andiamo a provarli, Steph O lampeggia o fa il bip, entrambe le cose non credo In ogni caso, facciamo in questo modo Prima un game dove siamo soltanto io e Ferre E la cerchiamo e la proviamo al volo Così ve la facciamo vedere proprio immediatamente Senza nessun tipo di problema Dopodiché, match normale dove cerchiamo di utilizzarla per vincere il game Ok? Preparatevi e andiamo Siamo scesi a pinacoli pendenti E stiamo iniziando già a cercare l'arma È abbastanza rara da trovare Allora, si può trovare ovunque, vero? Sì, esattamente La puoi trovare nei nuovi lama La puoi trovare nelle chest La puoi trovare addirittura per terra Rarità blu Quindi teoricamente Ok E dico teoricamente Non dovrebbe essere la cosa più impossibile del mondo a trovare Soprattutto in un match Ma non troppo In cui siamo in due Dentro pinacoli a full lootare Dico io La troveremo in due minutini Facile è facile Senza grossi problemi Non dirlo, zitto Zitto Non sarà difficile E poi la troviamo in tre quarti d'ora, guarda Anche se una partita non dura così tanto Quindi zitto È probabile È probabile Secondo te, Ferre Dimmi In lama Si possono trovare anche qua pinacoli O li hanno messi solo nei posti un po' più isolati? Secondo me li hanno messi in giro per la mappa Nei posti un po' più isolati Non ne sono sicura Però penso che siano un po' come quelle ceste Che trovi in mezzo agli alberi Che trovi in giro nelle foreste Quando un po' stai a girare per i fatti tuoi Ok Quindi tu dici che in città non ne vedremo Mentre ci spostiamo un po' Lo possiamo incontrare Esatto Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Già la seconda volta che vedo roba blu da lontano Che dico Ah finalmente ho trovato Sì Sì Comunque in una cesta ho aperto Jug Jug Dimmi te Cioè leggendario Molto più raro di una roba blu Però È casuale Casuale Non ci si può fare nulla Bisogna solo cercare Come devi aver cercato Ma davvero Sì Davvero Sì Sei serio Sì Dove sei che non ti vedo Perché stiamo in team diversi Allora sono Dove c'è l'albero al parco Dove si lutta È presente dove c'è l'alberone Sì un attimino Mi sto bevendo anche gli scudi Perché sai come non vorrei morire Prima cosa interessante Rarità blu me l'avevo già detto Te ne dà quattro Oh bello Non sono pochissime Quindi mentre arrivi Ho deciso che inizi a provarne una A toccandone una sul muro Ok Come funziona Allora la lancio E si attacca Guardate Allora Allora Va studiata bene Consolini Perché la possibilità di farvi vedere queste cose In modo così dettagliato Con calma È davvero preziosa Ed è davvero utile Per studiare le novità Come potete vedere Fa Dei lampettini Molto leggeri E uno molto grosso Ogni circa Cinque secondi Quindi Effettivamente A livello visivo Si nota tanto Ma Non fa nessun tipo di rumore Nulla di nulla Inoltre Si lancia con sinistro Mentre premendo il tasto destro Si fa esplodere Vediamo un pochettino Alla portata del danno Su un muro Uh Bel danno Oh Steffi Io non ti trovo Comunque Sono in alto nella città Continua a non trovarti Dimmi L'albero classico E non lo vedo Porca Dov'è l'albero classico Li senti? Gli spari? No Finalmente Andiamo Vieni 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 Lo voglio provare Su di te Lo sai vero? No Chi la trova Ha fatto male Ha fatto esplodere Totalmente il muro Steff E beh appunto Vai Ma si può attaccare I player Allora Cosa? Si può attaccare I player No prima Ma lo devo bere ora? Ma no dai Non mi ucciderà subito Voglio scoprire Vai 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 Inizia a bere Inizia a bere Non ce l'avevi Un shield grande Guardate quante cose Vi stiamo permettendo Di scoprire Già su quest'arma Prima di tutto Abbiamo l'occasione Full shield Full vita 200 Shotterà E soprattutto La posso attaccare A un player? No No Peccato Ok E ci sta Adesso Guardami Steff Ho comprato tutto Il nuovo set Anche il deltaplano Vai vicino a C4 Vado? Vai Secondo me ti one shotta Anche secondo me Ok sono rimasta Con 30 di scudo Ma che schifo Sì Abbastanza Eh no però Steff è giusto Perché se non fa rumore E comunque non Non la puoi vedere Guarda che lampeggia eh E lo so Steff Guardala su un coso Fa lampegini così E poi guarda quanto lampeggia A un certo punto Si nota Non può fare 70 Ma non è così Tanto visibile Quindi secondo me Se facesse troppo danno Sarebbe esageratamente Forte Capisci Steff È troppo No secondo me ci sta E poi non penso Che sia Più che altro Pensata per far esplodere I player Ma quanto le strutture Steff No Le strutture No 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 È fatta per fregare i player È fatta per fregare i player Perché comunque sulle strutture Fa parecchio danno Allora vai di nuovo Attaccati totalmente Vediamo se riesco a farti Più di 70 Vediamo un attimino Ok Mi attacco qua Guarda in faccia In faccia Steff 70 50 più 20 70 Secondo me Non prendetela Poi Vedremo un pochettino Magari c'è qualche utilizzo Che non stiamo considerando Cos'è il genere Ma 70 È davvero davvero pochino Anche perché tu magari pensi Eh Steff le piazzi E poi E te ne vai tranquillamente in giro Non ti occupano spazio Eh certo Invece no Perché devi averlo come spazio Per poterla tirare A meno che A meno che Aspetta Ma che è venuto in mente Che No 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 Ok sì 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 Volevo vedere se finendo le quattro cariche Ok Non te lo contava come oggetto nella barra Ma te lo deve contare per forza Quindi te lo conta lo stesso Perché la devi attivare Insomma Quindi anche se tu le lasci Comunque ti stai occupando uno spazio Non lo so Probabilmente Però qualcuno la troverà In utilità Steff No 70 140 210 Ne metti tre E fai esplodere uno E ne puoi mettere tre assieme? Sì Puoi e farle esplodere tutte assieme? E allora lì è già più interessante Quanti player hai visto fare che sei più in alto di me? Due sopra di noi Due? Due per ora Sì Sarebbe Un buon risultato E allora io mi faccio questa casa Visto che loro stanno ancora a svolazzare nel cielo Così dovrei trovare qualcosa prima di loro Infatti ho già trovato un fucile a pompa Che comunque è buono Due fucili a pompa Lo prendo anche per te Che non so se ti servirà Steff Ok Io ho giustitato una volta uno che era con Ancora scendendo dal coso Con il deltaplano Però io ho trovato anche il pompa blu Ma li andiamo proprio in bocca a massacrarli? Sì sono d'accordo Perché tanto loro sono il ristorante Quindi sappiamo esattamente il punto in cui sono Ho il pompa blu Mi sento aggressivo Mi sento carico Mi sento cattivo Ho appena trovato anche le mie 16 verde Quindi sono a posto Perfetto Perfetto Allora vieni verso di me Vieni verso di me Arrivo Ok Arrivo Ok Sta arrivando Ok Sta arrivando La cesta la lascio perdere per ora Preferisco pensare prima loro due Ok vai 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 ti sto aspettando Ci sono Arrivo Sono dietro di te Arrivo Sto prendendo qualche materiale Ok Ah io anche ho pochini materiali in effetti Ok Entro nel market o come lo vogliamo chiamare Stai qui dentro? No Dove sei? Al market Eccoti qua A posto Ok Ok Sì Quindi loro sono ancora dentro Mi sono appena bevuto uno shield Mi prendo un altro po' di legna Ok io shield non ne ho trovato però ho delle bende Ok Che comunque sono sempre utili Perfetto In early game Come ce la gestiamo? Non lo so Cerchiamo di vedere dove sono Ok ho già capito Stanno adesso suonando quindi stanno scendendo adesso a questo livello Ok Ottimo No mi sa che hanno preso la cesta che stava sopra Ok Io ho anche due trappole se le vogliamo piazzare nel ristorante No a me lo sentono Capito In effetti però Sono troppo vicini Più che altro Dove sono? Ce la fanno Ah ecco adesso Ok Amici Eccoli Li vedi che sono andando lì? Sì Ma Sono qua Sono qua Eliminati Perfetto Ogni tanto sbaglio La regolazione e il volume È troppo alta E mi assordo Talmente tanto Da non riuscire più a sparare Eh lo so Capito anche a me Capito anche a me Ah che male Allora Bravi 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 Ma hanno luttato qualcosa Ce l'hanno luttato Hanno fatto tutto il market Tranne i bagni Fere I due bagni li puoi luttare Dopodiché però hai tutta la città da luttare Perché non credo ci sia un replay E cos'è c'è di leggendario lì dentro Oh mio dio dimmi Che non è una pistola È una pistola Ma ti dicevo Stef Non avevano nulla Oggi era una tristezza Il burger allora Vabbè vado in giro Tanto ho lasciato una cesta Nella mia casa precedente E mi faccio un po' Quelle zone là E vediamo come va Ok Allora Prendiamo questo Perché ci deve essere sempre La pistola leggendaria silenziata Perché io non ho fatto Nulla di male In questa vita È carina dai Fa schifo Fa A me piace Non è buona Non è buona Ovviamente solo per le parti iniziali del gioco Perché poi non è la struttura E appunto Quindi adesso come mi dovrebbe servire Allora slurp Che farà comodo Vediamo se trovo scillini E poi scill Ecco qua gli scillini Grazie mille Me ne tiro due Non mi sembra ci siano altri player Infatti io comunque sto dando un'occhiata in giro Stef Non sto dando per buono Che siamo soli al 100% Perché qualcuno arriva alla fine Però c'è anche da contare Che Boschetto ormai è fuori dalla zona Quindi Sarebbe un po' anche stupidi Do inoltre aziona nella città Fammi sapere se trovi un vampa fucile Che lo sai che ormai sono diventato un fanboy Ok Bravo Ferè A me va a giorni Ogni tempo che mi piace Eh Che ti urli Non posso vederli Ho sentito un rumore strano Tipo? Mi sa che hanno messo Già le nuove missioni del passo battaglia E non l'abbiamo controllato Non l'ho controllata Perché Stavo camminando E come sono passato Sul camioncino del gelataio Mi ha fatto un Quindi credo ci sia la missione del passo battaglia Ho bisogno di andare in tutti i camioncini del gelataio Solo andare Non distruggerli No vabbè Ok ho capito che solo andare Però Che faticaccia Mi ha fatto un infarto eh Aspetta Ma ci voglio passare anch'io Tanto ci passo per forza Facendo il giro Così mi le conferma Esatto Vediamo se erano gli alieni Allora vado prima lì Tanto non ci dovrebbe essere nessuno Quindi vediamo Ok Aspetta dove arriva Steph Un po' un po' Un po' di Lì sotto Vediamo Fammi sentire Oh mamma mia Te l'ha fatto? Ti fa anche i corriandoli sopra Quindi sì Evidentemente devi visitare Pensa la paura di Steph Che non se l'aspettava Esatto Probabilmente uno o più camioncini Adesso poi l'andremo a controllare Ma sarà sicuramente qualcosa del genere Saranno almeno cinque Perché comunque ce ne sono tanti C'è a Parco Pacifico C'è a Pinnacoli Ce ne sono parecchi Quindi sicuramente sarà più di uno Ferre Dimmi Guardami in mano Ma aspettiamo qualche play Secondo te a me fa danno Non credo Non vorrei scoprirlo La granata mi fa danno Sì Perché ho pensato che magari Allora non provarlo ora L'avremmo dovuto provare Nei match privati Magari spalza come Junkrat di Overwatch Capito? Eh sì Non lo so Sarebbe bello Però non credo Non voglio provarlo sulla mia pelle In questo momento Perché il game È decente Perché è bello Non posso dirlo Con un vampa a fucile bianco No abbiamo poi incontrato Molta povertà E pochi player È andata così Però Sì 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 Il discorso è che la nuova zona Che chiude Ci permette di sicuro Di trovare un team E di fronte a noi nord Uno e due Ottimo 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 Ok Ok Mi stanno un attimino colpendo Quindi mi riparo Però uno l'ho colpito Gli ho tolto tipo 60 di shield Quindi bueno No Chi è che lancia cose? Sempre loro? Sto provando io a lanciare la C4 Eh cavolo Fa schifo fa Sono esploso Ma come si è esploso? Fa totalmente schifo Ma perché? Perché tanto io non avevo armi Quindi ho detto Vediamo se funziona parabola Ma è terribile Davvero davvero terribile E ce la fai? Una è vera Bravissima Ok Bravissima una cepa Perché mo' sono in due Ok lo vedi? Buona Sì eliminato Ok uno per uno E il tipo è lì Ok Colpisce Bravissima Non ha più shield Uh ti ha preso Hai cura eh? Eh sì ma Tirati almeno gli scillini Se non ti sta lasciando Non lo so Secondo te? No non ti sta lasciando Pompa Aspetta Bravissima Grazie Che ansia Odio far i peggio Allora fatti un murettino al volo E tirati prima il medikit Ma non ci sei più Fere Pazienza Io non voglio giocare da sola Fatti un tetto Fatti un tetto Voglio giocare da sola No mi faccio i muri così Ok vai 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 Sono apposta per pochi materiali Pensavo di poterti salvare Io l'ho fatto Invece no Mi arriva gente? Sì ma ormai stai così No Dovevo finirlo per forza il medikit Perché altrimenti Ah Ho deciso Perché hai provato quelli accidenti di cose? Ti odio Perché è il video Sì ma ok Che è la nuova arma Tu eri lontano Non avevi così da lontano Te ne stavi accucciato Io li sparavo Tu magari facevi un rush Da un'altra parte Eravamo abbastanza vicini Con delle granate Ok Tirate a parabola Io l'ho relittavo tranquillamente Quindi ho detto Vediamo se la c4 è utile anche in questo caso Fa schifo Deve provare le cose in questo game Fa completamente Non prendete quella Cioè provatevela una volta E poi buttate la vita Perché fa davvero schifo come arma Io non so Se sarà utile in qualche altro modo Ma È inutile in un combattimento Abbastanza ravvicinato Perché eravamo molto vicini È inutile da tenere come trappola Dovranno spiegarmi a che cosa serve Comunque Non lo scoprirà Almeno Secondo me il video era efficace in questo modo Perché dovevamo farlo vedere in tanti modi Non si può attaccare i player Fa 70 di danno Si può trovare abbastanza facilmente E non funziona in un fighter avvicinato Per tirare la parabola Un sacco di informazioni Che spero saranno utili